Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Tasi e io benvenuti in questo nuovo episodio di Ulissecraft Yeah, 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 yeah Allora, stiamo nella versione 2.1 che poi sarà anche quella successiva Quella che pubblicherò su FTP perché mancaravano pochi giorni Mi hanno detto che giovedì, cioè da domani più o meno, quando vedete questo video Dovrebbero ricontinuare le selezioni per i modpack privati E quindi dovrebbe essere possibile anche mettere il mio Quindi spero che lo facciano entro questa settimana Così che poi potete passare le vacanze natali giocando senza problemi, ok? Quindi spero che questo sia possibile il più presto possibile Un po' tradittore come cosa Va bene, allora ragazzi, quindi questa nuova versione, la versione 2.1 Chiamiamola così però adesso 1.1, non lo so 2.1 probabilmente perché la Ulissecraft 1 nessuno l'ha mai vista Manco io forse Vabbè, dettagli Comunque la versione 2.1 diciamo Normalmente invece dovrebbe essere la 2.6 Cosa ho fatto? Allora ho aggiunto un paio di mod Come vedete qui sotto ho aggiunto la Wila Wila è un plugin della Nei che vi permette di vedere di cosa è fatto Da che mod appartiene quella mod In questo caso adesso Blackstained Clay appartiene a Minecraft, cioè vanilla Abbiamo qui sopra Chunk Loader, Chicken Chunk Normalmente lo vedete tipo al centro lì sopra Io l'ho spottato lì sotto perché è più bello sotto E mi piace di più perché si leva anche lui di blu che è molto molto brutto Qui vedete l'endertran, ci dice anche la, diciamo, la sezione con i blu 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 E poi anche qui per esempio ci dice quanta energia sta utilizzando E la massima energia che può ottenere Abbiamo un Triglet, però qui ci dice tutto L'Induction Funnel tra l'altro non è compatibile Però ovviamente l'Extractor ci dice quanto EU ha storated Max Power, Max Power, questa roba Qui di più E lo vedete pian piano abbiamo tante belle robe Qui, presumo, no il controller non è Non utilizza M Joule quindi per quello probabilmente non dice che c'è energia Però in teoria dovrebbero fare anche un update per metterci anche l'Industrial Craft qua Perché in teoria qua ci va anche l'Industrial Craft E anche Redstone Fluid Quindi vabbè Qui come vedete è la stessa cosa Qui vabbè macchinari nuovi naturalmente adesso non fanno più nulla E qui senza che noi clicchiamo sopra ci dice come mantenere già uno storated Questa funziona per tutto Cosa altro ho fatto? Allora ho aggiunto un'altra mod che vi farò vedere più tardi Anzi gli altri due mod che vi farò vedere più tardi Una adesso, una nel prossimo episodio Allora qui ho craftato questa roba Ci ho messo il piccone, l'ascia e la spada che abbiamo fatto nel scorso episodio E qui invece Ci ho messo la nostra armatura Una cosa molto semplice e bella da fare E questa qui ovvero possiamo Subicciare direttamente l'armatura Semplicemente andando sulla pressure plate Mi raccomando direttamente mettere armor stand più pressure plate Shift, tasto destro Tadan, ci siamo cambiati l'armatura Guardate che bella l'armatura di Di power armor Troppo bella, si Power shift Ok Benissimo Quindi vedete Adesso ce l'ha rimasto automaticamente Abbiamo tutta l'armatura completa Mi raccomando shift Solo per la pressure plate Se lo fate normalmente vi lascia Tanto il pezzo dell'armatura che voi volete Allora Cos'altro dobbiamo fare vedere oggi? Ah giusto Guardate qui Abbiamo fatto l'elevator Della open block Come funziona? Si crafta questo elevator Si mette sullo stesso pilastro Quindi Sulla stessa colonna Qui sotto Tanti blocchi Tanti blocchi Potete Avere questi blocchi nei config Facendo shift Si scende Facendo Saltando Si sale Quindi noi facciamo shift Bam Siamo Qui nel nostro bel posticino Chiamato Zona motori Chieda un bel po' che non vedevamo Guardate che questi motori Sono ancora fermi Ma dettagli Dettagli Proviamo a vedere se ci andiamo ancora giù Non vedete che non riusciamo a stare a dire Però se saltiamo Boom Andiamo su Ottimo Quindi elevator fantastico Cos'altro vi mostrerò oggi? Oggi vi mostrerò un'altra cosa Che è bella 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 Allora Ho fatto la struttura Però Ora Ora ci arriviamo Devo un attimo volarci E siamo più o meno arrivati qua E' una brutta cosa perché Cioè La struttura è abbastanza messa male Però non mi piace Di tanto Quindi la giusteremo anche Ma cosa faremo oggi? Allora Butteremo questo qui E cercheremo di andarci Bam Ok Ecco il nostro ponticciolo Che ci porta Domaticamente qui Ok Bella vista Mi piace Interessante Ok torniamo indietro quindi Boom Tan 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 Cos'è questa cosa? E' un down bridge Che è una figata pazzesca Si Craft in questo modo E' Fatto l'extended down bridge Si fa con Un down bridge normale Blocco di ite Blocco di cobalto E Blocco di lefton E' Della Tinker construct Personalmente Della tinker construct Mechanism Ed è una figata Pazzesca Come vedete Questo coso Tipo un dropper Ci dice dove Fa uscire la roba E adesso Noi le metteremo Tutti così Perché Faremo Una piccola Seconda Stanza Più o meno di qua Allora Dobbiamo farci in questo modo Devo un attimo Ricoprare La nostra piccola Cosa di qua Aspettate Ok Allora Ricoprare la nostra ascia E dobbiamo recuperare Anche l'ossigeno Che è ormai finito Ottimo Allora L'ossigeno Allora Lascio Prima E poi l'ossigeno Ho messo tipo Il tank full Quindi in teoria Dovrebbe Sputarmi questo E caricarmi l'altro Opla Non vedo l'ora Tipo Di creano Nuovi E grandissime Altre cose Allora Recuperiamo un po' di stone Anzi no Ah beh Si facciamo una di stone Ma Stone Quanti ne abbiamo di stone No Niente stone Proprio Ah no Beh abbiamo stone brick Stone Brick Ecco qua Dicevo Era strano Se non ce l'avevamo Ok Prendiamo anche un bel po' Di questi Un due tre Ok Mettiamola a cuocere Così almeno abbiamo un po' di stone In più Allora Andiamo a posizionarli Come funziona Allora Basta mettere di qui sotto Poi cosa fare Levare queste due robe E dirgli cosa deve andare qui Deve andarci Diciamo Stone bricks Ok Quindi diciamo Stone bricks E come vedete Lui automaticamente Prende la forma Cioè prende La forma di uno stone bricks Quindi è una figata Diciamo che deve andare avanti Ok Avanti e avanti E poi dobbiamo dare Stanto energia Tramite qualcosa Io ho utilizzato Cioè Nel Intendo Impulso di landstone Io ho utilizzato Diciamo Il Questi Questi Resto non ha lui Perché sono Fantastici Non sono anche veloci Quindi perché no Usiamo quelli Ho detto Visto che ci siamo Facciamo tutto Molto velocemente Ok Quindi andiamo a riposizionarli Più o meno Qua Ok E Dobbiamo anche scendere Perché Bisogna posizionarli Pian piano Ok Dobbiamo un attimo Distruggere qua Ok Abbiamo posizionati Possiamo scendere Mettiamoci una leva qua sopra E vediamo se vanno Bam Questo è il nostro ponticciolo Continua per 63 blocchi Fin quando un po' Non si ferma Perché è giusto Che sia così Allora Spacchiamo un attimo La nostra legna Perché non ci interessa Non possiamo spaccarla Tutta intera Ok Ottimo E vado un attimo A rispondere Arrivo fra 5 secondi Ok Riecco Come vedete Ho fatto questi blocchi Ma è Un totti blocchi Perché Come vedete Non li affessi tutti Perché dopo un po' Si ferma Quindi lo ritiriamo Per adesso Ok Questa è giusto Una prova Per mostrarvi il tutto Adesso possiamo romperli E tenerli per altro Ok Allora Su cosa voglio Usarlo Questo qua Più o meno Su Una porta Abbastanza grina Che io molto spesso Facevo Ed era molto bella Allora Vediamo un attimo Se farla O con questi Red stained glass Quindi Cioè Red stained Cioè Come se fossero normali Oppure Boh Vediamo Non è caso Facciamo in questo modo Guardiamo verso l'alto Ok Gli diciamo Che deve avere Uno di questo E due di questi Verso il basso Deve essere sempre attivato Come attivarlo Questa è la parte Più interessante Allora La Tinker constant Ha aggiunto anche Nella tinker Mechanism Qualcosa di Molto innovativo Che potrebbe essere utile Da un certo punto di vista Perché dovrebbe comunque Creare energia Cioè Energia Più Un impiazzo Un Della redstone Anche se noi Non la vediamo Questa redstone Ora ve lo faccio vedere Tinker Ok Ed è questo qua Il signal bus Che si fa con L'alluminium brass ingot Che possiamo fare col Copper Noi abbiamo L'alluminium Alluminium Eccoli qua Ok Quindi facciamoci un paio Di questi qua Facciamo uno stack Ottimo E facciamoci un paio Di questi qua Ah Dobbiamo forza craftarci Ah beh Slab in generale No eh Facciamo una slab Di cobblestone Dovrebbe andare bene Comunque Ok Benissimo E questo è il terminal Ok Soltanto che È la prima volta Che lo sto usando Quindi non Ditemi che non sono bravo A usarlo Perché non so Non ho minima idea Di come si faccia Allora Stone Ok Ed è la send Ok Allora No send Mi serve la send Per forza Send stone Poca roba Mi serve Ah va bene La send Va benissimo Facciamo così Ok E poi Dov'è la mia crafting table Opla Benissimo E anche qua Stone Ottimo Se almeno abbiamo Tre Di questi Ottimo E facciamo alcuni Facciamo ne 18 21 Quelli che sono E poi facciamoci anche questo Signor Un signal Terminal Benissimo Da quello che ho capito Questo qua Io lo posso mettere Qua sopra Vedete Dov'è Qua No Per forza a terra Bisogna metterlo Ok Vedete Vedete Possiamo Com'è Il colore Quindi possiamo Dire Dov'è che Deve Andare In teoria Dovrebbe Dare Energia No Non Non Da Energia Ok Trovo complicato Quindi Non ne ho La minima idea Di come posso fare Vabbè Più o meno Potrò Sul glass Non lo posso Mettere No Fare Ehm Ah bene Abbiamo capito che Non è una cosa che si può fare Molto velocemente Quindi Dobbiamo fare in modo Di poter l'attivare Con un normale bottone Facciamo questo con la redstone Va Ha benissimo la redstone Allo E questo Lo vedremo in futuro Perché Davvero È una delle cose nuove Di cui Non Non so l'utilità Nemmeno come Si possa utilizzarla Quindi Andrò Aspettare un pochetto Allora Dovremo avere un bottone Anzi Abbiamo uno switch Abbiamo C'è uguale Non è meglio Ok Don bridge Mettiamo qui dentro E Lo mettiamo Primaveramente qua Ok Vado un attimo alla piglia Di nuovo Ok Riaccomi Allora Abbiamo detto Di momento ci blocco qua Cavolo Non è no Sette le lasciate qui dentro No Le deve essere capo dentro Sono stupido Ok Uno E Redstone ci abbiamo Ok Ottimo Qua Quindi Come fare Come fare Come fare Dobbiamo Fare in modo che Arrivi qui il segnale Che è qua Che deve andare Beh Questo non è Ah questo è un mezzo blocco È vero Non so Se arriva Sapete Se io invece Faccio Una cosa del genere Ovvero Spacco qua Lo metto qua In teoria Non si dovrebbe vedere La differenza Ok Ottimo Qua Benissimo Ok 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 Quindi dovrebbe essere Ok Ottimo Vediamo un attimo Se tutto va Adesso Tanto Switchare Ok Vedete che si chiude Bam Vai Ok Un po' La cosa Ma è bello Anche se Ci dai Tanto è figo Interessante Opla Allora Passiamo qui Nella seconda mod Cosa dobbiamo farci Per la seconda mod Dobbiamo Buttare un po' Di queste robe E craftarci un po' Di robe Allora Si chiama la mod Sync E' di iTunes Ed è una mod fatta Per la mojam Per la mojam La mojam E' una competizione In cui si Deve creare una mod Di 96 ore 96 ore sono più o meno Non so quanti ore Quanti giorni sono Però comunque In tot giorni Sono pochi 24 48 96 Che è 4 giorni Bisogna creare Il tutto Loro l'hanno creato E sono stati Fantastici Devo dire Mi sono riusciti A avere tantissimi progetti A meno di qualcuno Di quelli che Ho osservato E Non è vero Sono molto molto bravi Allora dobbiamo farci 4 di questi Poi 2 di questi E' abbastanza Dispendioso Come Come coso Però più o meno Si può fare Cos'altro mi manca Ah l'ender pearl Ok Benissimo Si possono fare Due settaggi Di questo Sync core Allora due Me ne servono Ottimo Allora dobbiamo farci Ma questo Ok C'ho il constructor E poi bisogna fare Un shell storage Ah devo farmi Questo Opla E questo qua Benissimo Opla Ehm Per adesso Ne dovrò fare due Precisamente Di questi Beh si Dovrei farlo comunque Due di questi Quindi a sto punto Dobbiamo farci Due shell constructor Facciamo un altro Due di questi Allora 1 2 3 E 4 Mi serve Della wood Mi serve Ok Opla Benissimo Ok Erano 3 4 Giusto Spero di si Ehm Poi due di questi Ottimo E basta Ah no Di tutto Devo fare Un altro di questo Allora c'è un altro E due Non so Quanti ne ho fatti Precisamente Ah smeraldi Non so se di smeraldi Possiamo craftare Mi serve di si Però Si 1 2 Ottimo Ehm Ah 3 Devo farmi Non 2 Opla Ecco qua Grappiamoci in altri due 1 E 2 Ottimo Quindi un altro Constructor Qua Ehm Non si possono Mettere insieme Stoccabili Ok Questa cosa Interessante E Ah giusto Fare un altro Di questo Solita roba Insomma Comunque Abbastanza semplice Crafting Più o meno E' Fattibile Non inizio game Sicuramente Ma più avanti Si Ehm Storage Ok Fatti queste due Ci sono Due leve Ottimo E Cos'altro Per finire Stanto questo Quindi Dobbiamo farci Un altro di questo Delight Benissimo Iron bars Che dovremmo averne Però Meglio prenderne altre E Black carpet Ce l'abbiamo Benissimo Craftiamoci questo Trendmill E Trendmill sarebbe tipo Non sapete quello Tipo Il tappetino elastico Cioè Il tappetino elettrico Ok E ci serve la nostra Portal gun Che abbiamo Portal gun Ne abbiamo due Ne abbiamo Si perché abbiamo una Qua dentro anche Ok Quindi Buttiamoci questo qua E faccio vedere un attimo Come funziona Il tutto Anche se Eh si Beh Comunque Shaftarlo Allora ci devono Metterli per adesso Uno Due qua E due Nella Nel modo normale Ok Quindi uno C'è il storage E uno C'è il constructor Quindi Ehm Storage 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 Dove lo possiamo mettere Ehm Qua Lo storage qua E il constructor qua Su questo ci mettiamo Un po' più al lato Va Ok Questo qua Opla E questo qua Benissimo Quindi il constructor Lo mettiamo invece qua Si clicca Vedete che prendiamo danno E dobbiamo dargli energia Per dargli energia Dobbiamo Eh beh Questo Su questo mondo Non so adesso Come faccio A trasportarli Il maiale Qui ci mettiamo Un maialino O un wolf Ehm Mi sembra proprio Dovrò prenderlo Con questo Perché il maialino È un po' complicato Da trasportare qui sopra Senza Cioè No buccia buccia Non è complicato È vero Perché posso Non so se muore Quello è il problema Proviamo Tanto Ma di chi vada Muore Muore Basta Vabbè Non dobbiamo far nulla Poi un maialino Sarà stata la tua vita Più lunga del mondo Va bene Allora troviamo un maialino Troviamo Eccolo lì Guarda Ci stavo attendendo Con ansia Andiamo sul mondo Mio A Benissimo Passa attraverso Vediamo che non si è morto Dimmi di no Dimmi di no Dimmi che non è morto Oh Non è morto Stranamente Non è morto Oh no Prende danno Prende danno Ok Dobbiamo metterlo Qui sopra Opla E questo automaticamente inizierà a correre E dare energia a costruire il nostro piccolo Simbiose Simbiose Ok l'ha fatto benissimo Adesso portiamo direttamente dall'altra parte Se no quello muore Muoviti 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 No 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 Eh come ti porto adesso Vabbè ciao è morto Allora comunque Dobbiamo switchare il nostro equipaggiamento Bene Perché Aspetta anzi non so se questo equipaggiamento rimane Guardate come dicevo prima Ok ottimo Benissimo Dobbiamo recuperare questo Oh cavolo Una leva una leva una leva Eccola qua Benissimo E anzi no mettiamola a lato a questo punto Quello è il nostro mino Ok guardate quella è noi Perché non ha il cappellino Ah vabbè strano Allora in ogni caso Dobbiamo recuperare un'altra leva veloce veloce Ok prima che finisce l'ossigeno Perché se no sono cavoli qua Ok E dobbiamo fare la stessa cosa però nell'overworld Opla Andiamo Ok Bam Mettiamolo qua E qua Ottimo la leva 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 E abbiamo qua la luce non serve più o meno Solo di no Allora cosa fare adesso Dobbiamo recuperare un altro maialino Non possiamo volare Quindi questa è una cosa brutta Perché i maialini ci servono Non sono vicino caso sicuramente Maialino Cavalluccio Penso che il cavalluccio non sia compatibile No Sento il maialino Eh ciao amico Pecorera non funziona Maialino ho sentito Ah sei qua Ti sento maialino Ti sento Mmm dove sei? Che bella sta poteto portare il gano Molto figa No pecora Ma senti il maialino Maialino Oii Eccolo qua piccolino Dove andavi eh Vuoi scappare vero? E qua viene a casa Andiamo Dicevo io che c'era vicino Opla Questo modo non è proprio utilissimo Per tanti aspetti Però è figa È bella E farla in 96 ore È tanto ragazzi Cioè Ci vuole tanto ma tanto impegno Quindi Perché non Ehm Perché non premiare il creatore con Cioè mettendo il nostro pack Allora per adesso dobbiamo Spaccarlo così Andiamo a tempo che crea il nostro simbioso E poi siamo a posto Ok Tanto di andarci sopra Dobbiamo cliccare Ottimo Adesso facciamolo correre Benissimo Non è così veloce Come succede a me Perché Semplicemente Io ho fatto si che Questa cosa fosse veloce Ehm Cambiando nel config Generalmente ci vuole un bel po' di energia Che il nostro piccolo amico Creerà pian piano Quindi andiamo qui Opla Vedete che abbiamo sopra Il nostro primo simbolo Nell'overworld E questo invece Nella Space Station 2 Clicchiamo sulla Space Station 2 E BAM Guardate Cambia dimensione Arriva sulla nostra Stazione spaziale BAM Oh cavolo Non è compatibile Qualcosa mi dice Che non è compatibile Ragazzi Ehm Si qualcosa mi dice Che proprio non è compatibile Ok Vabbè In ogni caso Non sembra essere compatibile Con quello lì Però ci può andare sia nel nether Ci può andare in tante altre parti Senza problemi Compatibilità Ehm Vabbè Mi è stata creata in un pochino di tempo Vedete qui dentro Siamo Adesso Il primo Ehm In teoria Noi dovremmo essere Il secondo Che dovrebbe Che Che stava qui Ora si stiamo morendo Perché non abbiamo nulla Tutte quelle altre cose L'avevo lasciato nell'altro PG Quindi dovremmo averlo Più o meno Qua dentro Vedete che c'era il coso qui Non ce l'abbiamo più Benissimo Adesso dovremmo Ehm Del tipo morire Anzi Andiamo di qui Andiamo nel dove World Boom Boom Penso che il contrario funziona Ma non Questo lato così Bam Ok Tornati Ta da 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 Ne abbiamo tutto in inventario Vedete Bam La cosa interessante È che rimane questa Naxac Non so perché Però penso Perché Devono ancora migliorare La compatibilità In ogni caso Il nostro canamico Quindi rimarrà Qua dentro per un po' Ma è buono per trasporti Su Un mondo normale Tanto sarà il teleport E altre robe carine Quindi che ne dite Vi piace un mod? Spero di sì Perché A me piace tantissimo E penso sia una delle mod Che più merita di vincere In questa Terza edizione del Mojem Quindi Io vi saluto per questo episodio Ci vediamo nel prossimo E maybe Nel prossimo episodio Ci sarà la seconda mod Che mi ha impressionato tantissimo Nel Mojem Quindi A prossimo video Ciao ciao